Musica Primi atleti uomini, hanno fatto la gara in 44 minuti, le donne in 50 e con questo fondo era impossibile fare di me È impegnativa, sono riuscito a arrivare in cima insieme al secondo che mi ha fatto parecchio faticare Meraviglioso, devo ringraziare tantissimo gli amici del Missul Team Sono stati veramente bravissimi, sa che dovrò tornare col panorama e il cielo blu l'anno prossimo Meraviglioso